Allora, i tuoi amici e i tuoi familiari non ti capiscono, non sanno che lavoro fai e senti ogni volta che te lo chiedono quella forma di insoddisfazione del non essere compreso pienamente, di non essere ancora capito. Oggi parliamo appunto di come comunicare a loro in modo semplice, una volta per tutti, che lavoro facciamo. Giustamente loro non hanno le competenze per poter arrivare subito a capire quello che è il nostro lavoro. Non ti leggono la mente, non è tutti i giorni con te e questo noi lo diamo per scontato come se fosse ormai una cosa, un nostro lavoro possa essere così conosciuto, è impossibile che ancora non si conosca. E invece è possibile perché ogni lavoro ha le sue sfumature e personalizzazioni, soprattutto oggi. Non siamo etichettati con, soprattutto noi marketer, noi freelancer, con un timbro tipo ufficio postale, addetto ufficio postale, insegnante a scuola. Quindi è difficile spiegare quello che facciamo giustamente a chi non conosce questo mondo. Cosa dobbiamo fare per poter iniziare a comunicarlo? Parlargli. Una cosa facile, proprio facile facile facile, è parlargli. Innanzitutto non rifiutare un confronto, non tirarsi indietro le domande. E parlargli poi, rispondergli come se loro fossero dei bambini. Ma non perché sono stupidi, ma perché il linguaggio che utilizziamo quando parliamo con i bambini, se ci fai caso, è un linguaggio molto semplice. Cioè glieli spieghi proprio, gliele imbocchi col cucchiaino le cose. Quindi un esempio che si può fare è dire le cose appunto come le odresti a un bambino. Come si fa? A un bambino che ti fa una domanda del genere, ma che lavoro fai? Guarda, io faccio questo tipo di lavoro. Hai presente quando tu ami giocare a qualcosa e vorresti trovare un compagno con cui giocare insieme, un amico con cui giocare insieme, un adulto con cui giocare insieme e volevi condividere quel momento insieme a qualcun altro? Ecco, questo è quello che faccio io, ad esempio dal mio punto di vista, con chi fa come lavoro il marketer. Il marketer devi sapere che chi è, è colui che da un'idea, una tua idea o l'idea di qualcuno o più idee o di un servizio che ha o di un prodotto che ha, riesce a trasformarla in un'impresa sostenibile, in un sistema funzionale e replicabile che possa diventare per te poi quell'idea, quel tuo servizio, quel tuo prodotto, un lavoro, una professione, un'impresa. Qualcosa che ti porta poi, oltre la felicità di fare qualcosa di utile, dei soldi per poterti mantenere. Ti garantisce poi uno stipendio. Come c'erano tanti tanti lavori, il pompiere, il carabiniere, tanti tanti lavori che hanno poi uno stipendio che gli danno a fine mese. Quindi, io che faccio? Ci gioco con quelle persone che sono i marketer e li aiuto, soprattutto quando sono nei momenti in cui hanno confusione, non si trovano bene con se stessi, non riescono a mantenere delle abitudini sani, hanno perso un po' la direzione, non sanno che strada prendere, sono confusi. Poi li accompagno nel loro viaggio per superarle queste difficoltà, perché ci sono passato anch'io e soprattutto perché mi sono formato per avere gli strumenti in questo tipo di problema. Quindi, mi occupo di questo. E poi soprattutto, visto che i marketer sono dei miei colleghi, perché anch'io lo sono da tantissimi anni, li capisco, li comprendo, perché ci ho vissuto in prima persona io dieci anni fa, quando ho iniziato come loro magari a intraprendere il percorso di social media, di marketer, di co-opi, eccetera, eccetera. Perché sono stato anch'io come loro uno che ha iniziato e affrontato tante cose e avendo affrontato tante cose tanti anni fa ne ho passate e tante ne ho passate e così ho acquisito delle esperienze e da quelle esperienze ho tratto il meglio e questo meglio io lo posso dare a loro senza che loro si battano dieci anni a destra e a sinistra a cercare qualità e valore vero. Io lo do, gli do la migliore qualità che io riesco ad estrarre in questi dieci anni di mia esperienza. Quindi, capisci bene che il mio lavoro è quello di sia aiutarli dal punto di vista personale ma anche dal punto di vista professionale, imprenditoriale. Spero che questo è un esempio che io ti stia dando di come comunicare con qualcuno che ha delle idee di quello che fai però ce l'ha confuso, o comunque non ce l'ha chiaro, non ha capito proprio. Se sei inizi come marketer, come libro professionista, forse questo potrebbe tornarti utile. Quindi, parlare come se fosse un bambino e poi un altro esempio che potresti fare per poter dargli modo di vedere quello che fai appunto faglielo vedere come. O registrando un video come sto facendo io e allo stesso tempo sto comunicando quello che faccio perché tra parenti sia una cosa che anche a me ancora dicono che non ho ben compreso di quello di cui mi occupo. Oppure puoi fare una registrazione di uno schermo che puoi benissimo fare da pc mentre lavori con la voce tua di sottofondo che dice quello che fa e poi lo mandi. Guarda, ho fatto questo, questo e quest'altro, sono riuscito a risolvere questo problema, faccio questo, questo e quest'altro. Così gli dai modo di capire quello che è il tuo lavoro giornaliero. Semplice, tanti lo fanno appunto per dimostrare quello che è il loro lavoro dietro, ma anche in modo semplificato. Spero che queste due idee, quella di parlare a loro e di non ritirarti al confronto con semplicità, con pazienza anche, e quello di registrare, di far vedere quello che fai, sia per te utile. Ora, se n'è andata lì la luce, però sto ancora continuando a registrare. Sì, io sto registrando. Speriamo che tutto quello che ho detto finora non l'abbia perso. Boh, non so che cosa sia successo. Comunque, se ti è piaciuto il video devo chiudere. Lascia un like, commenta e ci vediamo al prossimo. Ciao!